Ok, rientriamo nel tempio Oh, oh Posso dire che mi ricorda un po' Catherine Questa disposizione dei cubi Scusate, stavo ascoltando la musica Che per un secondo mi ha ricordato Un vecchio gioco del NES Eh, lo so, lo so Sali sopra però Ah, ok Stavo chiedendo, cosa serviva Duffy qua? Servono tutti e due bottoni premuti Sì, direi che è un'ottima scelta, vai Credo che questa sia la fine Quello è Tazzo, ok Huga ciacca, huga ciacca, huga ciacca Ok, ok, calmi un attimo Abbiamo il pollone gigante Anzi, aspetta un secondo Prima di avanzare Ecco qua Vieni Duffy Ecco qua, allora Dobbiamo arrivare da lui Dobbiamo arrivare là sopra Per, cioè là sopra Da quella parte prende i croccantini E la statua anche se Onestamente È il meno dei problemi Quello Ok Forse Potrei anche lasciarlo girare Però Tanto meglio Farlo fermare E calmo Per sicure Aia Per sicurezza Aia Ma dai Ma come faccio? Sei morto che avevo ancora due Due tacche di vita Ma scusami Ok, scusami Duffy Se ti ho fatto morire Vai Perfetto Allora, come avevo già detto ormai Le statue Questi collezionabili qua Sono secondari Se riusciamo a prenderli Tanto meglio E come ho già detto In questo livello Ne ho saltati Non ti dico un bel po' Ma Un pochino Ne ho visti E ho detto Vabbè, poi ci torno Aia, ho sbagliato qua Scusami Duffy Ci torno a prenderli Cosa che Credo che non fare Qua sono scivolato E basta Cosa che probabilmente Non faremo Siamo arrivati a fine gioco Onestamente Guarda Contento così Va bene così Basta Ecco qua Vai Io sai che Lo lascio girare A sto punto A sto punto Chi se ne frega No Puoi anche restare lì Bugs Per favore Allora In realtà Quale delle due vie È quella giusta? No, credo che questa Sia la via giusta Quindi Prima di avanzare Andiamo da lui Anche se Onestamente Se me ne chiede magari Diecimila Magari Gli dico Anche di no Va bene tutto Ma Pieni di soldi Ok ma Fessi no Vieni qui Per 3000 Va bene Sì 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 Grazie Dai Quante ne abbiamo? Trenta? Tre ora E adesso Sparisci Dico Sparisci Segura Levati dalle balle Per favore Potrei anche morire Per respawnare Direttamente là Sai Ok bugs Fammi arrivare Dall'altro lato Per favore Faccio un tentativo Eccoci qua Grazie Sì ovvero Vai Cui Calmo Ok Perfetto Ecco fatto Allora Dove dobbiamo andare Noi Cioè o meglio Come dobbiamo salire Credo Esatto Da questo lato Allora La cosa fastidiosa È che purtroppo Duffy Non ha Un doppio salto E la cosa È fastidiosa Assai C'è qualcosa Qui oltre Al bottone Non credo Non credo Anche se qua Sembra che dovrebbe apparire qualcosa Sai Messo così Tutto Guarda lo sapevo Quanto lo sapevo Dio mio Liber liber Allora Duffy Affitta il costume Dell'impavido Duffy È l'unico costume Veramente utile Quello dell'impavido Duffy È quello che ti porta avanti Nella trama Tutti gli altri sì Però Questo è l'unico costume Che è apparso In quasi tutti i livelli Se non addirittura In tutti Allora Come ci arrivo là io però Eh Sì Ma ci arrivo Con un salto Ah sì Onestamente Non ci avrei mai creduto Sai Ah ok Ah ok Cos'è che devo fare Cioè devo solamente Far 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 Scomparire Fermo 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 Che poi non sono Cioè Io sto continuando A fare sta roba Ma non so neanche Se è l'obiettivo giusto Di questa missione Ci mangia Ci mangia Non sono neanche sicuro Bravi Bravi Fermo Bravo 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 Slalom Slalom Vieni Vieni Bravo Bravo Perfetto Missione compiuta Hey Prendiamolo Però a Tazzo Wanted Sappiatelo Ce l'ho nella mia lista Dei giochi Da fare Da una vita Dicevo Ce l'ho nella mia lista Dei giochi Da fare Dal tempo di uscita Del gioco Perché Io mi ricordo Il gioco che era uscito Appunto per PS2 E ad oggi Io non mi ricordo Se quei dischi Erano Il gioco Completo O se era solo Una prova Una demo O Una versione Ridotta Del gioco Cioè Dovrei averli ancora Dischi Ma ovviamente Avendo la versione Completa Per PlayStation Non mi metto A installare Una versione Magari Non completa Del gioco Ecco qua Avanziamo Era ora Un profumo Di tremenda ricchezza Fammi salire Sulle tue spalle Così posso Tuonare il campanello Non lo so Duffy Secondo me Dobbiamo trovare Altre scimmie Prima di chiudere I battenti Così le ritrasformiamo Tutte No carino Non adesso Che sono quasi arrivato Non avresti il coraggio Di farmi questo Prima prendiamo Quelle scimmie Prima ti aiuto Ad aprire la porta Bene Va per la tua strada Qua sta feste No Quante scimmie vuoi Per favore Quante scimmie Devo prendere Tu sei impazzito Guarda Lo sape Appena visto il 33 Sapevo che non era Un numero Tondo Passatemi il termine Dovevo prendere due E per fortuna Per fortuna So dove trovarne due Facilmente Guarda Sono content Odio Però forse Non abbiamo Abbastanza soldi No 6.000 Ce la facciamo Ce la facciamo E come E se non ce la facciamo Ti attacchi A parte di tutte le sfide bonus Di sfida della luce Ma Per fortuna Noi ci siamo lasciati dietro Delle scimmie Da comprare Dove sei Amico pollo Vieni qui Quante ne vuoi 2005 Dammi Sì 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 Te la compro Sei il metodo più veloce Per finire sto gioco Scusami Come siamo arrivati a 35 Eravamo a 33 noi Due secondi fa Ma scusami No scusami Sono scemo Io eravamo a 33 Aia che male Il problema è che mi devo rifare L'ultimo minigioco adesso Per risalire di sopra Abbiamo tutte le scimmie Possiamo Entrare Nella porta Finale Del gioco Aspetta Appena esatto Andiamo E la madonna Ultimo livello Vai a catturare la scimmia Mi sembra Troppo semplice Cioè troppo Molto easy Come cosa finale Da fare Ma scusami Qualcuno la fermi Fateglielo sgambetto Supera il fuoco Nemico Prima del E' proprio come nei film Ok Vai 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 Aia Sbrigati E forse è meglio se vado da solo Io intanto Sto proseguendo proprio Alla bene e meglio ora Oh Qua A chi tocca A me A lui Ah ok Perfetto Era solamente il checkpoint E basta Mi ricorda molto Un livello La Crash Bandicoot Basta Tutto qui Beh Mi ricorda qualcosa Un'altra porta Se non trovo gioielli dall'altro lato di questa porta, chiamo il sindacato! Eccolo là! Prendi il diamante! Perché perdere tempo? Non possiamo mancarlo! Non so spiegarmelo, eppure mi piace da impazzire la simmetria. Il presidente? Presidente o non presidente, basta che io sia ricco! Sì, il presidente! Ci incontriamo di nuovo! E ora vi mostrerò il favoloso potere del diamante della scimmia blu iniziale! Ma come è arrivato qua lui? Non se volete salvare questa scimmia! In realtà no, però... Ma dai! In fondo è uno solo. Ho i vostri amici! Ok, questo già un po'. Il vero signor Warner è questa vecchia signora! Si chiama nonna, blutto uomo cassino! Non sei più così coraggioso, eh, coniglietto? E questo nel caso ti venisse qualche strana idea. Ehi, cerchiamo di andarci pianissimo. Niente più? Qual è l'idea geniale? Io e i tuagnelli stavamo appena iniziando a conoscersi! E adesso guarda come tutto il mondo all'improvviso scemmiotta per l'acme! Questo sì sarebbe un bello slogan! Mi domando che cosa sia successo a quello scimpan... Sì! Allora, che ne dici se andiamo a firmare uno di quei... Troppe scimmie! Farò fortuna vendendo degli sbucciabanane acme! Basta! Tu hai profanato lo spirito della scimmia blu! Oh oh! Mi suona familiare! Pagherai a caro prezzo la tua arroganza! Sì! Bene, se uno sentirà la mancanza! Tutti voi dovrete pagare! Ma noi che c'entriamo? Ecco, ci siamo! Adesso o mai più! Yahoo! Ma... No! Titi! Sei di lamenti! Di lamenti! Una scimmia cattiva! Pensavo che sarei stato io il protagonista della battaglia con il pezzo grosso! Francamente mi sento sollevato! Benvenuti fan della lotta alla vincente... No, e dai! Abbiamo Totti contro la scimmia rocciosa! Spingi il guardiano della scimmia nel dirupo! E come si fa? Cioè cosa devo fare? Per questa lotta! Ma ti vorrà un colpo gargantuesco per farlo con il canarino come quello! Adesso finissimo! Ti farò vedere tutto il vecchino che vuoi! Ok! Distruggi la sua vita! Eh ma non so i colpi! Ma scusami! Contiamo tutti su di te! Iai! Ma scusami! Ma nessuno mi ha spiegato cosa devo fare! Usa il colpo segreto! Colpo Pao! Pao! Eh ho capito il colpo Pao ma... Spiegami il... Spiegami i tasti invece del colpo Pao! E io lo spingo nella roccia così e basta! Io non sto facendo niente se non spingere basta! E tu te ne fa la vedere delle belle! Dai! Fagliela vedere! Colpiscilo a te ti! Sì ho capito colpiscilo ma... Come si fa il colpo su detto Pao? Voglio darti una bella lezione! Eh ho capito darti una bella lezione! Io colpisco solamente quando lui abbassa la guardia e continua a spammare! Pao! Sei un tutto guagliano veramente cattivo! Dai! Pao! Pao! Ho detto! Eh Pao! Pao! Aia! Ma dai! Ma come si fa il colpo Pao? È inutile che mi dici di fare una cosa che non mi spieghi come si fa! Non importa di aver sentito un crack! Ma... Terribile! Dai! Non parlo per la nonna! Per la nonnina! Non rispogliare nessun colpo! Eh! Adesso finiscilo! Ho capito finiscilo! Ma me lo dovete spiegare come si fa il suo detto colpo Pao! Bastardi! Non mi potete mettere a fare un combattimento finale senza spiegarmi! Scusi la ciumido! Non puoi perdere! Eh non puoi perdere! Grandi questo! Che vuoi ancora? Io sto andando totalmente a... Voglio che voi lo sappiate! Sto andando totalmente a caso! In questa battaglia finale nessuno mi ha spiegato cosa dovevo fare! E detto ciò... Stiamo vincendo lo stesso! Aglia! No! No! Ma scusami! Ma scusami! Ma dai! Non è possibile! Non è possibile! Scusami! E io continuo a fare su e basta! Usa il colpo segreto! Ma non mi avete detto come! Non mi avete neanche detto cosa devo fare in questo video di gioco! Io sto andando a cazzo e basta! Eh te lo do io un pezzetto di titti! Guardalo! Che non c'è neanche il tempismo giusto sta battaglia! Eh finiscilo! Guarda che se sapevamo come fare il colpo Pao! Avevamo già vinto due turni fa eh! Eh il colpo Pao! Se me vi dicevate come si fa magari volentieri eh! Dai! Dai! Dai abbassa la guardia! Dai! Dai che palle! Tira giù la guardia! Tu fattila vedere! Non è di questo! Ce la puoi fare titti! Ti assicuro che questo fa la più male a te e a me! Duh! Uha! Titti delle palamidele delle pende! Io sto continuando ad andare avanti e basta! Hai un pezzetto di titti? Vieni a prenderlo! Dai! Non riesco a andare nessun colpo! Oh ed è andato! Il colpo Pao! Ehi vincitore! Io ho vinto senza sapere neanche cosa dovevo fare in tutto ciò eh! Sinfonia di fogno nel fiamese! Incredibile! Ha battuto il gigantesco mostro di pietra! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Guarda il presidente! Oh ma guarda che disastro! Ma guarda che belle scarpe! Non lo devo fare e svanirà tra un secondo! Succede sempre in queste cose! Ma... Vedi? E questo è tutto! Finisce così! E' stato alquanto deludente! Non credi anche tu? Oh complimenti linguazza mia! Corriamo tutti nella giungla! La fuga finale? Fuggi dal tempio prima che... che venga distrutto? Ce l'abbiamo fatta! Unirettiva! Sì sì... Però adesso come facciamo a ritrasformare le scimmie? Ci pensa la scimmia? E la ladra ha ancora il mio buono pasto! Oh finalmente! Finalmente! Ci siamo ritrovati! E mi sento così! Crack! E si rompe! Ecco ti pareva! Peffato di nuovo! Il treno dei desideri ha abbandonato la stazione! C'è qualcun altro qui che ha voglia di banana? Sì! Ma dai! Ma Titti! Oh Titti! Oh vieni qui mio piccolo e simpatico salvatore! Il tuo è stato un gesto incredibilmente generoso Duffy! Hai rinunciato al tuo sogno per salvare il mondo! Bravo! Fammelo per fare! Un ottimo di attenzione! Ringrazio tutti voi per avermi salvato la vita! Oggi abbiamo visto un lato sconosciuto dei membri della nostra famiglia! E io penso che sia giunto il momento di passare ai riconoscimenti! Ma dai! Sto parlando di un tipo rapido di piede! Nessuno è più veloce! Resistente a forti pressioni! Resistente è il mio secondo nome! Un uccello di insolito valore! Ha valore da vendere a chili! Io! Credo che oggi la Warner Brothers abbia scoperto un nuovo eroe per i filmi d'azione! E che in futuro realizzeremo molti progetti insieme! Certo! E con me hai il successo affigurato al botteghino, signor Warner! Un grande successo! Questo merita un saluto, Titti! Signore, il talento paga sempre alla fi... Ringrazio tutte le persone piccole! Perché è un bravo ragazzo! Perché è un bravo ragazzo! Perché è un bravo ragazzo! Nessuno lo può negare! E così via! Ricchezze favolose! L'occasione per farmi notare dal grande capo! Aveva tutto in pugno! E l'ho buttata via! Ehi, Duffy! Titti è stato scrittolato per un film! Andiamo tutti al ristorante a festeggiare! Vuoi venire? Sì, vengo! Non preoccupatevi per me! Ho un appuntamento con i vermi! Sempre che mi vogliano! Povore L... Ma i vermi ci sono anche a Burbank! Sicuro che non vuoi un passaggio? Un passaggio? E quanto mi costerà? Non preoccuparti, Duffy! Ti faccio un prezzo speciale! Quanto hai detto? Scusa! No, aspetta! Devo prendere altri soldi per farmi il passaggio finale per davvero? Ah, meno male! È stata... Un'avventura molto corta e onestamente particolare! Non posso dire brutta! Aveva leggermente un po' di rigidità nei comandi, ma il gioco comunque è stato piacevolmente facile da giocare! Certo, purtroppo alcune sfide, per esempio quelle di scavare sottoterra per trovare tutte le statue, su emulatore viene un po' dimezzata come cosa, visto che, appunto, l'emulatore non fa vibrare il controller, nonostante il controller abbia il supporto! Detto ciò, comunque il gioco... Tiro! Non è stata male! Ti ricordi quando eravamo solo disegni? Beh! Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito! Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto! Noi ci vediamo a una prossima serie! Ciao a tutti! Ciao a tutti!